Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di Football 2023, notizia pazzesca ufficiale che è appena arrivata ragazzi, oggi 1 aprile, informazioni su Master League, Crossplay e Coop, sono serio ragazzi, è ufficiale, siamo lieti di annunciare un nuovo aggiornamento, versione 2.4.5, a sorpresa ragazzi. Prima di andare avanti, prima di continuare a leggere, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, perché solo seguendo questo canale potete avere questo tipo di notizio. L'aggiornamento 2.4.5 verrà rilasciato in data 2.4.2023, a seguire i dettagli, quindi l'aggiornamento arriva domani, a sorpresa, di domenica, cosa strana ma Konami è strana, si sa. Funzionalità aggiuntive, aggiunta la funzione Crossplay che permette di giocare tra console differenti, questa funzione include PS4, PS5, Xbox XS, Xbox One e Steam, niente mobile, quindi da domani ragazzi, ufficialmente, si potrà giocare con il Crossplay, quindi PS4, PS5 con Xbox, Xbox con PC e così via. Tanti lo stavano aspettando ragazzi, adesso è ufficiale, finalmente domani arriva, in maniera gratuita. Nuove modalità, attenzione, implementate le seguenti modalità in maniera gratuita, su PS5, PS4, Xbox XS, Xbox One e Steam, ma anche in questo caso senza mobile ragazzi. Le modalità sono Master League, Coop, da 2 ad 11 giocatori, che significa da 2 ad 11 giocatori? Che è sia 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4, 10 contro 10, 11 contro 11, da 2 fino ad 11 giocatori. Buon divertimento con i Football 2023, grazie del supporto. Ovviamente sono sul sito ufficiale Football ragazzi, Konami è tutto ufficiale, è tutto vero ragazzi, e quindi finalmente quello che stavamo aspettando sta per arrivare. Domani tutti quanti a giocare la Master League, tutti quanti in Coop, domani tutti quanti ad utilizzare il Crossplay. Io sono troppo contento ragazzi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, mi raccomando come sempre, ditemi la vostra opinione. Ovviamente ci saranno anche piccole modifiche del gameplay o qualcos'altro, che di solito arriva quando ci sono gli aggiornamenti, ma probabilmente tutto il resto lo diranno domani, cioè ne parleranno domani, anche perché credo che ci sarà un grande evento per il rilascio della Master, della Coop, insomma hanno voluto fare questa sorpresa, questa cosa sorpresa, e io ne sono molto contento. Come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, buon pesce d'aprile a tutti, dal vostro SimoPlay. Bella ragazzi! Ciao!